Ennesimo incidente mortale lungo la statale 19, località Fontana del Fico, ad Eboli. Un'auto ha travolto due stranieri che percorrivano a piedi il tratto di strada. Uno dei due, un 22enne, risultato da subito in gravi condizioni, è stato trasportato d'urgenza presso l'ospedale Maria Santissima Adolorata. Nella notte, purtroppo, il suo cuore ha cessato di battere, non aveva con sé i documenti e dunque non se ne conosce ancora l'identità. Indagano i carabinieri per far luce sul drammatico accaduto. Un vero e proprio bollettino di guerra nell'ultimo mese, quello relativo agli incidenti mortali registrati nel Salernitano. Dal 27 luglio al 27 agosto, purtroppo, 10 le vittime della strada. A Capaccio Pestum, in uno scontro, non ce l'hanno fatta due motociclisti, la provincia di Avellino, Cosimo Spagnolo di Atripalda e la sua compagna Roxana Rena, e Gerardo Iacovazzo, 49enne di Vallo della Lucania. A perdere la vita, nei giorni scorsi, è anche una bambina di 7 anni di Messina, che viaggiava con la sua famiglia lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. Un altro grave sinistro si è verificato a Nocera Superiore, in cui è morto un uomo di 55 anni dove aver perso il controllo della sua vettura. A Contursi, un centauro, 34enne di Colliano, è deceduto in un incidente lungo la statale che collega Campagna e comuni dell'Alto Sele. Sangue sull'asfalto pure a Ferragosto, quando un motociclista che viaggiava sulla Salerno-Reggio Calabria per cause da accertare, ha perso il controllo della guida ed è finito al suolo, sotto la galleria. Troppo violento purtroppo l'impatto e lo centauro, un banchiere in pensione originario di Olevano sul Tusciano, ha perso la vita. Purtroppo, oltre agli scontri e agli incidenti, anche gli investimenti sono stati funesti nell'ultimo mese. Sulla statale 18, due persone morte dopo essere state investite. Uno sulle strisce pedonali, un altro travolto dopo essersi fermato a prestare soccorso ad una vettura in panne. Infine, sempre lungo la A2 del Mediterraneo, tre auto si sono scontrate, espirato sul colpo un 41enne di pulla. Secondo le autorità, le principali cause degli incidenti, la guida distratta, l'uso eccessivo dello smartphone, il mancato rispetto della precedenza o di un semaforo e la velocità troppo elevata.